Un finanziamento da 118 mila euro per San Cataldo. Le somme finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verranno destinate per la realizzazione di un progetto a valere sulle risorse dell'iniziativa ReactEU, l'annuncio all'amministrazione sancataldese. Si prevede così la creazione di un centro di servizi per il contrasto alla povertà per la presa in carico integrata, si precise in una nota congiunta del sindaco di San Cataldo, Giacchino Comparato e dell'assessore Gabriele Amico. Un centro di ascolto nonché l'accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo dei nuclei familiari residenti nell'intero distretto sociosanitario, che si trovano in condizioni di povertà estrema, marginalità o grave deprivazione. Il progetto prevede anche un servizio di mensa all'interno del quale saranno offerti i pasti caldi, si legge ancora, alle persone più povere della città e ai nuclei familiari in difficoltà economica, non beneficiari di altre misure di sostegno e reddito. A testimonianza concludono dell'efficacia dell'azione politica e amministrativa del nostro comune in favore della collettività. Questi soldi serviranno sia per ripristinare la mensa dei poveri che per creare un'equipe multidisciplinare capace di rispondere ai bisogni delle fasce più deboli. Uno psicologo, un legale, un assistente sociale, tutto questo finanziato con fondi comunitari. Ancora una volta come comune, dopo il bando energia che è uscito qualche settimana fa e con cui il comune ha provveduto a stanziare dei fondi per pagare una parte delle bollette energetiche dei più bisognosi, dopo quell'intervento un altro intervento a favore delle fasce più deboli.